La galassia a vortice M51 fu la prima galassia ad essere risolta come tale dall'Orda Rosse nel 1845. La galassia satellite NGC 5195 è la sua compagna ed entrambe, per una buona osservazione risentono molto delle condizioni del cielo. Da un cielo pessimo e da un cielo terzo e scuro si potrà osservare una semplice macchiolina o una bella spirale con tanto di bracci staccati dal fondo scuro. In buone condizioni e con un diametro generoso sarà visibile anche la compagna.